Buonasera, tra poco insieme con le notizie del telegiornale. Allora partiremo inevitabilmente dalla conferenza sulla crisi in Libia a Berlino. È in corso la conferenza stampa finale. E allora una notizia che è arrivata pochi minuti fa cambia davvero il senso della giornata. Perché cosa si è saputo? Che i due premier rivali in lotta, in guerra, Sarraji e Haftar hanno dato la disponibilità a partecipare ad una conferenza intralibica da tenersi probabilmente a Ginevra. Quindi in Svizzera in tempi molto brevi e dicevamo cambia il senso della giornata. Tanto che l'inviato delle Nazioni Unite in Libia ha detto di giorno meraviglioso per quel paese. Ma sono tutti i giudizi che stanno cambiando davvero in questi minuti. Tra l'altro se lo possiamo far vedere eccola la cancelliera Angela Merkel che sta parlando in questo momento. Ripeto conferenza stampa in diretta da Berlino al termine della conferenza del vertice per occuparsi della crisi libica. E dicevamo cambia un po' il senso della giornata perché nel corso di queste lunghe ore, tante ore, sì era arrivata la notizia, si era saputo che tutti i paesi partecipanti avevano prodotto quella bozza di cui avevamo parlato ieri. Presentata a tutti ed era stata firmata da tutti, anche da Russia e Turchia per dire, ma non dalle parti in campo. E cioè non da Sarraji, non da Haftar. I due tra l'altro non avevano voluto partecipare ad incontri insieme, quindi sempre con delegazioni separate. Insomma c'erano notizie contraddittorie, buoni risultati, tutto quello che prevedeva quel documento, la bozza. Intanto ecco la conferenza sta finendo, lo facciamo vedere e naturalmente nel corso del telegiornale vi daremo tutti gli aggiornamenti, ma dicevo la notizia più importante è quella di questo nuovo incontro con protagonisti, le due parti in guerra, Haftar e Al Sarraji da fissare nei prossimi giorni, ma che si terrà secondo l'accordo dato dagli stessi due a Ginevra e quindi questo è il risultato più importante. Ma dicevamo notizie contraddittorie perché c'era quel documento che proponeva un governo di unità, proponeva la riscrittura della Costituzione, proponeva lo stop immediato agli scontri, ma insomma vi dicevo mancava la firma, mancava quell'assenso che a questo punto vedremo innanzitutto nei giorni prossimi se manterrà la tregua, non ci saranno scontri militari in Libia, due quando verrà firmata l'accordo per fare questo incontro a Ginevra. Questa era naturalmente la notizia d'apertura, la notizia più importante, però parleremo naturalmente le reazioni, il ruolo dell'Italia in tutto questo, ve lo racconteremo, ma vi dicevo parleremo della giornata politica, ancora una volta protagonista il leader della Lega Salvini. Che è successo? Domani c'è l'aggiunta per le autorizzazioni, la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di processare il leader della Lega per il caso Gregoretti. E allora domani si riunisce l'aggiunta, dopo tutte quelle discussioni anche formali di cui vi abbiamo reso conto nel giorni scorsi, si riunirà l'aggiunta e Salvini cosa ha detto ai suoi? Votate per farmi processare, insomma ribaltando tutto, Mossa che ha provocato tutta una serie di reazioni, hanno risposto tra gli altri, il Partito Democratico, la maggioranza eccetera, anche le Sardine, Sardine che oggi erano in piazza a Bologna, vedremo, rimane la contesa sulla piazza finale, quella di Bibiano contesa tra Lega e Sardine, anche in questo caso sentirete nel telegiornale come è finita, ma poi ancora a vent'anni il servizio sulle commemorazioni ad Ammametta, vent'anni dalla morte del discusso leader socialista Bettino Craxi, e poi un caso incredibile, una tragedia incredibile, scontri tra tifosi di due squadre minori, c'è scappato il morto. Questo ed altro, iniziamo il telegiornale tra 30 secondi. Il vertice di Berlino si chiude senza una conferenza stampa congiunta, con la presenza dei due leader libici in guerra, ma fa registrare qualche passo in avanti, come detto dal Premier Conte, nella soluzione della crisi, intesa su un cessato e fuoco, permanente sullo stop alla vendita delle armi. I partecipanti si sono anche impegnati a non interferire nel conflitto armato, i due contendenti, Sarraji e Haftar, d'accordo su un monitoraggio militare permanente della tregua. Si dovrebbero vedere, si vedranno prossimamente a Ginevra. La giunta per le immunità del Senato voterà domani sull'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, accusato dalla procura di Agrigento di sequestro di persona per il caso Gregoretti. Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte, ha detto oggi Salvini nel corso di un conizio, aggiungendo, servirà un grande tribunale perché sarà un processo contro il popolo italiano. Il Movimento delle Sardine torna a riunirsi a Bologna e riempie piazza 8 agosto, secondo l'organizzazione 40.000 le persone presenti. Se riempiamo le piazze siamo qui, vuol dire che un'alternativa c'è, dice il portavoce del Movimento Mattia Santori, che aggiunge, tra una settimana si capirà se siamo destinati a decenni di squadrismo digitale o a aprire una nuova epoca di democrazia. 20 anni fa la morte di Bettino Craxi ad Ammamette, una cerimonia tra passato e presente, in memoria del controverso leader del Partito Socialista italiano, tra i molti che hanno partecipato, diversi esponenti della vecchia guardia. Sono venuti in mille, come quelli di Garibaldi, la testimonianza che Craxi è vivo, al contrario dei tanti morti che pretendono di discutere sui suoi errori, prima ancora che è sui loro addetto, la figlia di Craxi. E' finita in tragedia una rissa tra ultra di due squadre di calcio lucane in provincia di Potenza, che militano nel campionato di eccellenza. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto e tre persone sono rimaste ferite, una gravissima in condizioni molto gravi, a bordo della macchina gli ultra, i tifosi avversari. Buonasera, come dicevamo, si è chiusa da pochi minuti la conferenza internazionale sulla crisi in Libia. Avete visto, pochi minuti fa, presentando il telegiornale, vi abbiamo fatto vedere che si è chiusa davvero, mentre eravamo in corso la conferenza stampa, presenti i leader internazionali, a cominciare dalla Merkel, che ospitava il vertice, alla conferenza stampa, come nella redazione del documento finale non hanno partecipato i rappresentanti delle due parti che si scontrano in guerra in Libia, cioè il presidente al-Sarraji, quello riconosciuto dalla comunità internazionale, il generale Haftar, che controlla gran parte del resto del paese. Però è arrivata poi, e quindi sembrava una fumata quantomeno grigia rispetto a quello che era successo nel corso della giornata, i contatti, gli incontri, le varie delegazioni che avevano sottoscritto e raggiunto degli accordi. Poi, dicevo, pochi minuti fa, la notizia al-Sarraji e Haftar hanno detto sì ad un bilaterale, ad un accordo, ad un incontro, scusate, tra loro che dovrebbe tenersi, dovrà tenersi prossimamente a Ginevra. Niente foto di gruppo, come previsto alla conferenza finale per i veri protagonisti e rivali della guerra di Libia, al-Sarraji e Haftar, ma un accordo di massima per convocare una conferenza intralibica da tenersi probabilmente a Ginevra in data da destinarsi, e poi l'istituzione di un comitato militare misto, composto da cinque ufficiali designati da ciascuna delle due parti, che possa lavorare ai termini del cessato il fuoco. E' questo il risultato principale della conferenza di Berlino e non si poteva sperare di più, dal momento che i due non si sono nemmeno incontrati dietro le quinte per discutere di una possibile tregua. Secondo quanto scrive la TV libica, Al-Ahar sarebbe stato proprio a Sarraj a rifiutarsi di incontrare il generale che dallo scorso aprile sta tentando l'assalto di Tripoli con le sue truppe per rovesciare il potere. Per questo la cancelliera Merkel ha dovuto incontrare le parti separatamente e poi riferire l'esito degli incontri. La dichiarazione finale del vertice comunque è stata stilata e firmata da tutti i partecipanti alla conferenza, ovvero i diversi leader europei, i presidenti russo, turco, nonché il segretario di Stato americano Pompeo. Un documento di 55 punti che è una constatazione dello status quo e un elenco di speranze. Il documento prevede infatti tra l'altro il cessato il fuoco permanente, un embargo sulle armi e un processo politico per arrivare a un governo unico. Come corollario della constatazione che la Libia è una minaccia per la pace e per la sicurezza globale, in Libia affrontiamo un chiaro rischio di escalation regionale, avrebbe infatti detto il segretario generale dell'ONU, Guterres, ai partecipanti alla conferenza di Berlino e perciò ribadiamo il nostro appello a tutti coloro direttamente o indirettamente coinvolti perché facciano di tutto per sostenere un'efficace cessazione delle ostilità. Se ne è discusso, ma non è ancora stata trovata un'intesa, però sul punto più critico della questione, ovvero l'ipotesi di una presenza internazionale in Libia per garantire l'applicazione del cessato il fuoco. Tutti sembrano essere d'accordo in linea di principio, ma mancano i dettagli e soprattutto il passaggio al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, l'unico organismo in grado di prendere decisioni vincolanti. E allora, questo è un po' lo stato delle cose, sentite, avete sentito, appena sentito insomma che c'è molto da fare, però i commenti, dicevamo, poi alla fine, proprio nella chiusura della conferenza, sono diventati positivi, positivi quelli generali, compreso quello del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, che ha giudicato la conferenza importante in modo positivo e offrendo, tra l'altro, come ruolo dell'Italia, pronta, dice, al monitoraggio della pace, Conte che comunque nel corso della giornata invece aveva avuto a che dire con il presidente al Sarraggi che aveva detto l'Italia, ma soprattutto l'Unione Europea è intervenuta, non intervenuta, non ha preso posizione e comunque quando lo ha fatto, lo ha fatto troppo tardi, Conte aveva risposto no, noi siamo stati sempre presenti, vi abbiamo offerto la possibilità di incontrarvi, di far valere le vostre posizioni, insomma, tutto questo però è passato in archivio, dicevamo, visto quello che è successo nel finale della conferenza di Berlino. La vicinanza geografica tra Libia e l'Italia è stata da sempre un elemento rilevante, le risorse del paese nordafricano che hanno nel corso degli anni contribuito a soddisfare i nostri bisogni energetici ma anche le sue coste diventate porti d'imbarco delle rotte migratorie dirette attraverso il Mediterraneo in Europa hanno avuto un peso importante nella storia economica e nel dibattito politico. L'appuntamento di Berlino era dunque seguito con particolare interesse dalle nostre istituzioni, non chiediamo passi indietro a nessuno ma passi avanti decisi ha esortato a Giuseppe Conte ribadendo il ruolo di equidistanza dell'Italia. Palazzo Chigi ha colto con un ottimismo moderato e cautela i primi risultati del vertice di Berlino e il ministro degli esteri di Maio ha ripetuto che la conferenza è solo un primo passo. Perché Berlino sia il primo passo però è indispensabile un cessate il fuoco duraturo, un punto questo preminente se si vuole intraprendere un percorso di pace. lavoriamo per un'efficace cessate il fuoco ha detto Giuseppe Conte e per alimentare un processo politico in modo da rilanciare le funzioni del Consiglio presidenziale libico e del governo libico per una stagione di riforme che riguardino il piano politico istituzionale e economico di sicurezza. L'opzione militare ha sottolineato il Premier non potrà mai portare ad una soluzione definitiva. Del resto la settimana che ha preceduto il vertice in Germania ha visto tacere tranne qualche sporadica eccezione le armi da entrambe le parti in conflitto. Per scongiurare l'eventualità però che si ricominci a sparare è necessaria la presenza sul territorio di una forza che assicuri le operazioni di pace e di monitoraggio a cui ha spiegato Conte l'Italia è disponibile a dare un contributo. Una disponibilità che il Premier ha rinnovato anche nel faccia a faccia con il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Il capo del governo ha anche replicato alle dure critiche espresse dal Serrage che ha accusato l'Europa di aver avuto finora un ruolo molto modesto. L'Europa non è arrivata tardi ha risposto Conte ci siamo sempre stati nelle ultime fasi l'Europa sta maturando la convinzione che su questi dossier deve muoversi con la massima determinazione ed una voce sola. E allora questa è la parte iniziale principale del telegiornale che non poteva non essere dedicata a quello che è successo a Berlino sulla crisi libica. Ma poi c'è la pagina politica perché lo sappiamo ormai manca meno di una settimana domenica prossima si vota voto amministrativo Emilia Romagna e Calabria e molto delle polemiche molto delle discussioni gira intorno a quel voto. Molto gira intorno a quel voto molto gira anche invece a un appuntamento che è ancora più imminente e cioè domani dopo lungo tiro e molla ma è stata confermata la riunione della Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato. Sapete che va esaminata la posizione di Matteo Salvini e la richiesta arrivata dal Tribunale dei Ministri di Catania di processarlo per sequestro di persona per il caso dei migranti che erano a bordo della nave Gregoretti e allora noi sappiamo e vi abbiamo sempre raccontato la Lega i senatori nella Giunta Salvini si è sempre detto non è un processo giusto è un procedimento che non ha alcun senso voteremo no e invece oggi cosa ha detto Salvini? E io allora chiederò domani a chi deve votare e quindi anche ai senatori della Lega di farmi un favore votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte portatemi in Tribunale e la chiariamo una volta per tutte e sarà un processo contro l'intero popolo italiano e conto su di voi che ci portino tutti in Tribunale Salvini in persona firma l'ennesimo cambio di scena sul caso Gregoretti e la richiesta del Tribunale di Catania di processarlo per presunto sequestro di persona sui migranti schierando i suoi per il sì nella Giunta per le autorizzazioni convocata domani con la Ventino minacciato dalla maggioranza prendeva infatti corpo l'ipotesi di un centrodestra che in solitudine salva il suo leader dal processo un assist per gli avversari già pronti a dipingere un Salvini a caccia di privilegi altro che martire ma il leader leghista fiuta l'aria e cambia schema si sfila la Meloni invocando la coerenza finora ha sempre ribadito che si tratta di un processo assurdo i suoi domani voteranno no anche forse Italia con la Bernini spiega capisco Salvini ma noi siamo per la separazione dei poteri la politica migratoria aspetta i governi niente processo insomma difficile però fa ricorso al pallottoliere la maggioranza infatti sembra decisa non andare in giunta ma fino a domattina la decisione non sarà ufficiale in caso di numeri risicati Forza Italia e Fratelli d'Italia potrebbero comunque far mancare qualcuno per far passare la linea del leghista del resto questo va specificato che il voto di domani è solo il primo round di una partita che avrà il match decisivo a febbraio quando la decisione toccherà all'aula allora sì che sarà definitiva la guerriglia in atto insomma su date e decisioni ha più il sapore della propaganda da entrambe le parti con le regionali vicine nessuno vuole regalare argomenti agli avversari i 5 stelle incalzano Salvini finora ha tentato in tutti i modi di evitare il processo e oggi chiede ai suoi di mandarcelo solo per avere visibilità spiega il capogruppo Perilli siamo a ridicolo boccia da Italia Viva Faraone quando ha capito che non poteva fare il martire per il nostro voto ha chiesto ai suoi di mandarlo a processo un vero giullare si tratta di un atto di coraggio spiega invece dalla Lega Giorgetti che chiude un tormentone Lega o meglio Salvini che polemizza anche su un altro aspetto lo sappiamo ormai da qualche giorno con le sardine per chi potrà manifestare a Bibiano la prossima settimana giovedì a metà della prossima settimana per la fase conclusiva dicevamo della campagna elettorale del voto amministrativo ci sono stati diversi botte e risposta sappiamo anche che la questura ha detto ha dato la precedenza alla manifestazione della Lega nonostante le sardine poi avevano come si dice prenotato chiesto fatto la richiesta ufficiale della piazza prima di Salvini fatto sta che è arrivato anche è arrivato un appello dei sindaci a non inasprire a non surriscaldare il clima le sardine dicono e hanno ripetuto oggi anche oggi in piazza a Bologna noi siamo pronti a rinunciare se lo fa anche Salvini in piazza a Bologna andiamo a vedere la manifestazione del movimento una Woodstock sotto le torri manifestazione d'arte e cultura o evento politico siamo in 40.000 dicono le sardine che si giocano oggi una delle ultime carte da protagonisti di questa campagna elettorale arrivata alla fine il 14 novembre ci fu il battesimo erano 10.000 di questo movimento nato per caso con un nemico preciso Matteo Salvini e il sovranismo oggi piazza 8 agosto serve ai 4 ragazzi diventati il riferimento di tante persone che in piazza non ci andavano più per dire siamo sempre qui con un occhio al futuro in attesa di vedere prima come andrà il voto di domenica Mattia Santori e il volto delle sardine ha parlato di svolta per la politica italiana se queste piatte avranno un effetto reale sull'elettorato e sulle elezioni potrebbe essere una prima grande svolta per una politica che ormai da circa un decennio va verso il populismo senza speranza chi partecipa porta sardine fatte in casa e molti non venivano in una piazza da anni e ci sono tornati si respira soprattutto la speranza che arrivi un messaggio forte da quella sinistra che ha tradito i suoi valori e che la Lega non si prenda l'Emilia Romagna contattati dai 5 Stelle non dai vertici dicono corteggiati dal PD col quale di arrogare per questi ragazzi è possibile siete una boccata d'ossigeno per la democrazia insieme si va più lontano li saluta Zingaretti da Facebook dopo il voto un incontro col Premier Conte che li ha chiamati col quale vorrebbero parlare dei decreti sicurezza spero che la sua richiesta di incontro la voglia di ascoltare le piazze non sia una voglia di ritagliarsi uno spazio politico ma sia l'intenzione di prendere un impegno per l'abrogazione dei decreti sicurezza un impegno per il controllo dei social network la piazza si scalda quando sul palco salgono i Modena City Ramblers alla manifestazione organizzata in crowdfunding sono stati raccolti 70.000 euro hanno dato la loro adesione giornalisti attori cantanti sono un raggio di sole dice Francesco Guccini in un video dagli after hours al rapper Marrakesh al di là di come la si pensi secondo me una piazza che si riempie per prendere posizione davanti alla politica una visione di società per me è un successo domani decideranno se accettare la proposta del questore di Reggio Emilia di manifestare giovedì a Bibbiano in una piazza vicina a quella in cui ci sarà Salvini consulteremo i cittadini dicono venerdì l'evento ancora una sorpresa per chiudere questa loro prima campagna elettorale da Sardine 20 anni fa in Tunisia da Mamet moriva Bettino Craxi leader del partito socialista a 20 anni l'ha discussa figura continua a dividere la sinistra nessun rappresentante del governo era presente oggi alla commemorazione ad Mamet nessun rappresentante nemmeno una delegazione del partito democratico la figlia Stefania però ha detto di aspettare un gesto dal Quirinale c'è la vergognosa assenza del governo italiano c'è il governo tunisino si vede che ancora non sono pronti in ritardo di 20 anni sul paese reale a fare i conti con Craxi perché prima devono fare i conti con loro stessi fare i conti con la storia Stefania Craxi che si batte da 20 anni nel nome del padre per riscrivere la sua vicenda politica e umana attacca quelli che ad Mamet hanno ancora timore a farsi vedere il piccolo cimitero cattolico della cittadina tunisina dove il leader socialista ha vissuto i suoi ultimi anni è affollato come non mai ci sono i socialisti di oggi e soprattutto di ieri a celebrare i 20 anni della scomparsa di una figura divisiva ingombrante per una parte lo statista protagonista assoluto degli anni 80 per un'altra il leader di partito fuggito dalla giustizia simbolo indiscusso del crollo di un sistema politico un giudizio che resta sospeso con le assenze che pesano più delle presenze lui è stato un uomo politico amato dai socialisti da un pezzo di italiani e diciamo odiato da un altro pezzo in tutto non si può avere nella vita ma anche il governo non ci sono figure istituzionali ma a febbraio Mattarella riceverà Stefania Craxi e i vertici della fondazione Craxi sul banco degli imputati c'è soprattutto il PD assente in veste ufficiale a rimarcare una frattura a sinistra mai sanata in questi giorni di celebrazioni qui ad Amamet sono arrivate delegazioni di vari partiti Forza Italia con Anna Maria Bernini il renziano faraone leghista garavaglia dal PD solo presenze a titolo personale il sindaco di Bergamo Giorgio Gori senatori Pitella e Nannicini non si tratta di fare tribunali postumi in cui la politica decide chi era un santo e chi un peccatore si tratta di permettere a tutte le storie che hanno reso il Partito Democratico quello che è tra le quali per me c'è il riformismo socialista di onorare i propri antenati quello che manca ed è il punto politico più grave è il Partito Democratico poteva mettere fine ad una lunga storia secolare dove danno ragione i socialisti atturati a Matteotti e a Nenni con 40-50 anni di ritardo ecco dopo 20 anni questa riconciliazione poteva esserci e sono convinto anche che la scelta del vertice del PD se è stata una scelta o se non è semplicemente un momento di sciatteria e di incuria si dovrebbe misurare con Craxi nell'interesse della sinistra italiana nell'interesse loro nell'interesse della verità storica tre persone sono state fermate poco fa per gli scontri oggi pomeriggio in provincia di Potenza tra tifosi di squadre che militano in campionati minori scontri che hanno portato una rissa finita addirittura in tragedia un uomo è morto quattro feriti uno in gravissime condizioni due tifoserie rivali da sempre da una parte gli ultrad del Vultur Rio Nero dall'altra quelli del Melfi campionato di eccellenza lucana quello dove in campo e fuori si gioca duro oggi in calendario non era previsto lo scontro diretto le due squadre dovevano giocare tutte e due in trasferta i loro tifosi nel primo pomeriggio si stavano muovendo verso le rispettive mete quando si sono incontrati davanti alla stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata Potenza è bastata una scintilla e sono venuti alle mani qualche spintone pugni poi sembrava tutto rientrato quando tre supporter del Melfi tutti giovanissimi sono risaliti in auto una utilitaria secondo la prima ricostruzione chi era al volante avrebbe spinto sull'acceleratore puntando volontariamente verso il gruppo degli avversari come fossero birilli quattro sostenitori del Rio Nero cadono a terra quando arrivano i soccorsi un operaio di 39 anni è già morto sul colpo gli altri vengono trasportati in ospedale a Potenza uno è in gravissime condizioni ed è già stato operato rischia la vita gli altri due in codice giallo vengono dimessi poco dopo nel frattempo l'auto che li ha investiti è fuggita ma la scena hanno assistito molti testimoni i tre vengono rintracciati poco dopo e portati in questura per essere interrogati gli investigatori hanno pochi dubbi sulle loro responsabilità che però sono diverse bisogna anche capire chi abbia partecipato agli scontri avvenuti prima dell'investimento tra le persone ascoltate in questura come testimoni anche i due tifosi del Rio Nero feriti in modo lieve una domenica di sport è stata distrutta dalla follia di pochi faci norosi questi delinquenti la dovranno pagare cara dice il governatore Vito Bardi che aggiunge non si può morire una domenica per andare a vedere la squadra del cuore le partite delle due squadre sono state annullate gli inquirenti sono al lavoro anche per scongiurare il rischio di azioni di rappresaglia nel giro di ritorno lo scontro diretto è in programma il prossimo marzo per l'ordine pubblico non sarà una partita facile inizia tra tre giorni negli Stati Uniti il processo per la messa in stato d'accusa del Presidente Donald Trump parlano oggi anche gli avvocati della difesa che dicono che tutte le prove in campo non hanno basi giuridiche e sostengono anche che in realtà la messa in stato d'accusa è soltanto un modo per dicono gli avvocati di Trump naturalmente un modo per interferire nelle elezioni presidenziali del prossimo novembre l'appuntamento è per martedì alle 13 le 19 in Italia al Senato di Washington si aprirà il processo per l'impeachment di Trump nella storia statunitense la terza volta che si arriva a questo punto ma nessun Presidente è stato mai dichiarato colpevole Andrew Johnson e Bill Clinton furono assolti mentre Nixon si dimise prima di essere giudicato esposizione mediatica negativa a parte neppure Trump rischierà molto è accusato di abuso di potere per aver usato i fondi per la sicurezza destinati all'Ucraina come leva per obbligare Kiev a indagare sul suo avversario politico Joe Biden e suo figlio Hunter e di ostruzione al Congresso per aver vietato a testimoni di rispondere alla convocazione delle commissioni della Camera e per non aver consegnato documenti legati al caso ma le Senati repubblicani hanno la maggioranza inoltre per rimuovere il Presidente servirebbero i due terzi dei voti 67 su 100 e secondo le ultime analisi sia l'impeachment al massimo potrebbero arrivare a quota 50 calcolando anche qualche incerto tra i repubblicani far fuori Trump insomma è una missione quasi impossibile in ogni caso ai democratici conviene che il processo duri a lungo mentre i repubblicani puntano a chiudere i giochi in fretta per permettere al Presidente di concentrarsi sulla campagna elettorale decisivo sarà lo scontro sui testimoni se nessun test fosse ammesso potrebbe finire tutto in una settimana il processo sarà presieduto dal giudice capo della Corte Suprema John Roberts e a fronteggiarsi ci saranno due super team di legali i sette avvocati dell'accusa si batteranno per ottenere l'audizione di quattro testimoni l'ex consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton il capo ad interim dello staff della Casa Bianca Mick Malveni il consigliere anziano del Presidente Robert Blair e il funzionario dell'ufficio gestione budget Michael Duffy in particolare Bolton sarebbe propenso a presentarsi in Senato ma i sette difensori scelti da Trump naturalmente si opporranno e alla fine la decisione potrebbe essere messa ai voti con i repubblicani ancora una volta favoriti secondo giorno di proteste secondo giorno consecutivo di proteste in Libano proteste per la crisi economica è una classe politica che non riesce a formare un nuovo governo a Beirut centinaia di manifestanti si sono concentrati nel centro della capitale libanese il giorno dopo i violenti scontri tra manifestanti e forze di sicurezza che hanno registrato oltre 400 feriti alta tensione fuori dal Parlamento dove molti hanno cominciato a lanciare sassi e bruciare oggetti la polizia ha reagito usando idranti e gas lacrimogeni e come ogni domenica torna e tra poco parte Giletti Massimo Giletti non è l'arena allora sappiamo che ci sono ospiti importanti hanno accettato di venire da te Toni Colombo e Tina Rispoli è vero? è vero è vero dopo un po' di tempo che cercavamo di avere delle risposte con i nostri inviati questo matrimonio che ha fatto molto discutere ci sono state mille polemiche per la presenza televisiva in altri programmi di Toni e Tina ecco alla fine hanno accettato di venire qui saranno qui e risponderanno alle nostre domande con grande serenità spero che tutto proceda ma inizieremo come sempre con la politica e il protagonista sarà Matteo Salvini che ci racconterà tutte quelle notizie di cui avete voi aperto come avete fatto l'apertura del telegiornale quindi ci vediamo come sempre dopo di voi grazie Paolo a tra poco grazie a te Massimo dopo il telegiornale non è l'arena noi invece ci rivediamo tra poco con gli aggiornamenti ci sono aggiornamenti importanti dopo la pubblicità di nuovo in studio vi dicevo dell'importante aggiornamento che arriva e non poteva essere altrimenti da Berlino riguarda la conferenza internazionale sulla crisi in Libia vi abbiamo detto dei tanti giudizi e commenti positivi per come si è concluso il vertice soprattutto per quel dato quella possibilità dell'incontro nei prossimi giorni a Ginevra tra Haftar e al Sarraji e da questo punto di vista arriva in realtà una dichiarazione di un interlocutore importante il ministro degli esteri russo Lavrov che prima di tutto rivendica l'importanza del ruolo della Russia per aver fatto arrivare sedere intorno al tavolo o comunque partecipare alla conferenza Haftar ma soprattutto dice ancora la leggiamo insieme a voi non c'è ancora nessun dice Lavrov dialogo serio tra i belligeranti al Sarraji e il generale Haftar appunto l'ho detto nella conferenza stampa di conclusione a parte tenuta da Lavrov pochi minuti fa da Berlino dunque una leggera frenata vedremo come si svilupperanno le cose naturalmente tutti gli aggiornamenti nell'edizione del telegiornale della notte per quanto ci riguarda è tutto buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti Grazie.